Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul nostro canale. Oggi vi mostreremo come rendere il profilo Facebook chiuso, quindi iniziamo. Innanzitutto aprite l'app Facebook sul vostro dispositivo mobile o accedete al vostro account da un browser web. Quindi cliccate sulle tre linee orizzontali che si trovano nell'angolo in alto a destra per aprire il menu. Ora andate sul vostro profilo. Da qui, cliccate sul menu a tre punti che si trova nell'angolo in basso a destra della vostra foto di copertina. Infine, seleziona Rendi il profilo chiuso dal menu a tendina che appare. Successivamente, vedrai una breve panoramica di cosa significa rendere il tuo profilo totalmente chiuso. Cliccate sul Rendi il tuo profilo chiuso. Una volta completato il processo, il vostro profilo sarà chiuso e solo i vostri amici potranno vedere i vostri post e le vostre foto. Ricorda che puoi sempre cancellarlo in qualsiasi momento seguendo gli stessi passaggi. E questo è tutto. Non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al nostro canale per altri tutorial. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.